Dar ha sempre incontrato musicisti, ma anche opinionisti, persone che hanno voluto dire la propria su questo argomento. E ora avere la possibilità di incontrare Papa Francesco, che è la persona che in questo momento, a questo mondo, è quello che sta dicendo di più, si sta battendo di più per i migranti, credo che sia fondamentale per questo strumento. Il cammino di Giulio Carlo Vecchini, il diutaio cortonese, arriverà adesso sino a Roma, dove lui, assieme alla sua Mare di Mezzo, saranno ricevuti da Papa Francesco. C'è piena sintonia tra il progetto Mare di Mezzo di Giulio e anche il sentire di Papa Francesco, non solo per questo discorso del Mare di Mezzo, ma anche per tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni, per tutto quello che il mondo sta vivendo. Noi stiamo vivendo per i fatti terribili del Mare di Mezzo è la chitarra creata con i frammenti delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa. Lo strumento è stato scelto dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite come simbolo della giornata mondiale dei rifugiati e da allora è in perenne movimento, passando di mano in mano agli artisti che ne sostengono la visione. Ho dovuto inventare un sistema per costruire questa chitarra, io non volevo fare soltanto una cosa a livello estetico, rappresentativo, ma volevo fare proprio un progetto di liuteria, cioè far sentire il suono di questi legni, che nel bene o nel male prendesse parte al suono e anche la voce dello strumento fosse riconoscibile e raccontasse le voci di queste persone. Il lutaio è così partito dalla sua città Cortona ed arriverà il prossimo 27 aprile in Vaticano come pellegrino, a piedi con lo strumento sulle spalle. Sarà un bel percorso, nella natura si percorrerà buona parte della Toscana e del Lazio, sarà interessante. Io non conosco bene il Lazio, non conosco bene il percorso e sono anche curioso di percorrerlo, specialmente il tratto da Siena a Roma, passando sotto la miata al lago di Bolsena, il lago di Vico, Viterbo, giù fino a Roma, sì, sarà interessante.